Ben ritrovati, sono terminate nei giorni scorsi le riprese di Verso Casa, il cortometraggio che valorizza la biodiversità del paesaggio agricolo ed è interamente girato nelle Marche, in particolare nelle campagne di Senigallia. Le parole della regista e sceneggiatrice Giulia Casagrande. Salve, Verso Casa è un cortometraggio che racconta la storia di tre generazioni di donne intorno allo spazio di un giardino e del prendersi cura tra persone ma anche tra uomo e ambiente, uomo e piante, fiori. Quindi c'è questo doppio aspetto della presa della cura sia dell'ambiente sia del paesaggio ma anche delle relazioni più care che abbiamo nella vita. L'abbiamo girato pochi giorni fa a Senigallia, la mia città d'origine, in una bellissima casa con un bellissimo giardino e siamo attualmente in lavorazione per la ricerca di finanziamenti per poter terminare il progetto. Quindi partirà a breve una campagna di crowdfunding con la società di produzione di Sandro Angelini, la Piceni Art for Job, che ha sede proprio qui a San Benedetto. Quindi se il progetto vi interessa potete seguirci nella pagina Facebook di Verso Casa ma anche attraverso Piceni Art for Job e sicuramente le tematiche principali sono questo attaccamento alla terra, questo imparare a guardare il paesaggio, imparare ad osservare quello che ci circonda e a renderlo speciale attraverso lo sguardo, attraverso l'attenzione. Parlo dei fiori, parlo di tutto ciò che all'apparenza può essere piccolo e invisibile ma che in realtà è importante per un sentimento di appartenenza, di sentirsi a casa. Abbiamo tre protagonisti, Diane Fleury nel ruolo di Silvia, la protagonista principale, Isabella Carloni nel ruolo di Marinella, la madre della protagonista e la giovane Daniela Sciammana nella parte della ragazzina.